A tutto oggi non è stato perso nulla per un raggiungimento di un obiettivo che potrebbe essere bello, ma che comunque siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino adesso, che tante situazioni bisogna leggerle a 360 gradi. È chiaro che adesso abbiamo un'opportunità per rifarci, abbiamo una grande squadra da incontrare, dobbiamo pensare a quello che sarà ora questa partita, abbiamo annullato potenza mentalmente, spero, e quindi dobbiamo cercare di dare delle risposte al nostro lavoro, al nostro percorso e a quei tifosi che ci seguono sempre, soprattutto in trasferta, a quei 500 che hanno la possibilità di regalare un applauso, se ce lo meritiamo, a questi ragazzi perché sono state stupende fino adesso ad accompagnarci in tutte le trasferte, in tutto il nostro percorso e quindi adesso più che mai abbiamo bisogno di loro. Il nostro augurio e auspicio è quello di vederla meglio, sicuramente, perché se abbiamo perso due partite è che non siamo stati al top, non abbiamo potuto, fatto o fare quello che è nelle nostre corde, quindi quando parlo di essere più sbarazzini, di essere più liberi, di poter proporre quello che abbiamo fatto in passato, anche perché ho dovuto modificare qualcosa in assenza di Rosafio, di Pugliese e si è visto in negativo purtroppo perché è una squadra abituata nella sua metodologia, nei suoi movimenti, nel suo modo di sapere stare in campo in una maniera, in quest'altra maniera poiché sei giocatori, ribadisco ancora una volta, non li puoi regalare a nessuno, abbiamo incappato in qualche difficoltà.